E' in agitazione il mondo del karate, nonché in allarme. La disciplina non sarà presente a Parigi 2024. A dare la spiacevole notizia è stato il presidente della WKF Antonio Spinosanno, una decisione quella del comitato organizzativo che ha lasciato tutti a bocca aperta, un pugno allo stomaco per la World Karate Federation che nonostante i tanti passi in avanti si ha visto chiudere le porte della manifestazione sportiva più importante di sempre. I motivi dell'esclusione non sono stati ancora resi noti. Il karate ha oltre 255.000 atleti affiliati in Francia, inoltre 5.000 club e il 55% di questi atleti ha meno di 18 anni. Inoltre il paese ospitante le Olimpiadi del 2024 è uno delle maggiori potenze nella disciplina, con 15 titoli mondiali nelle ultime quattro rassegne iridate. I numeri sono sempre stati dalla parte del karate, che non avrebbe mai immaginato l'estromissione dall'edizione parigina. A livello globale poi il karate ha 100 milioni di partecipanti, in 194 affederazioni in tutto il mondo. L'ultima edizione dei mondiali di Madrid 2018 è stata trasmessa in 186 paesi e ha registrato la partecipazione record di 1.200 atleti provenienti da 131 nazioni. Il karate quindi non sarà presente all'edizione francese, ma non è detto che possa fare il suo rientro nell'edizione del 2028 a Los Angeles. Tokyo 2020 sarà infatti l'occasione per la disciplina di dimostrare il proprio valore cercando il passaggio da sport olimpico temporaneo a sport olimpico definitivo. La decisione spetterà come sempre al Comitato Olimpico Internazionale che nel 2021 si riunirà per decidere quali tra i 28 sport olimpici attuali dovranno restare ufficiali nel programma 5 cerchi e quali invece potranno essere aggiunti in modo definitivo nel 2028. Fatto sta che quella di escludere il karate sarà una decisione che penalizzerà soprattutto gli atleti più giovani.